Meno incidenti, più vittime, ma meno violazioni al codice della strada. È il quadro tracciato dalla Polizia Stradale del Veneto, con riferimento all'attività svolta nell'intero anno 2014. Sono stati registrati 3.955 incidenti, il 9% in meno rispetto al 2013. Di questi sono diminuiti quelli con lesioni, mentre sono aumentati quelli mortali. 90 ai sinistri del 2014, con 101 vittime, a fronte delle 81 che avevano perso la vita nel 2013. Un dato che, secondo la Polizia di Stato, dovrebbe far riflettere gli automobilisti ed invitarli ad un maggiore rispetto delle norme di sicurezza alla guida, evitando comportamenti a rischio come la distrazione per l'uso di apparecchi cellulari e navigatori, l'eccesso di velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per i più piccoli. Sono poi 2.127 i conducenti sanzionati per guida in stato di ebrezza, un punto percentuale e mezzo in più rispetto al 2013, e 79 quelli cui è stata contestata la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Con 30.870 pattuglie di vigilanza stradale e controllo del territorio, sono state accertate 81.866 infrazioni al Codice della Strada, con 3.756 patenti di guida ritirate e 104.455 punti patente complessivamente decurtati. In Veneto, infine, l'azione di contrasto all'abusivismo nel settore del trasporto professionale è stata più incisiva nell'anno 2014, facendo registrare un incremento del 33% del numero dei controlli.